Sapete, per Eni è importante stare sempre più vicino agli italiani e oggi lo fa con questa iniziativa straordinaria Riparti con Eni Dalle ore 13 di sabato alle 7 di lunedì mattina in tutte le Eni Station aderenti e in modalità hyper self hai carburante di qualità a un prezzo imperdibile e uguale dappertutto Un po' come dare un passaggio agli italiani Se non partiamo così, ma quando ripartiamo? A Catanzaro, nel centro storico, in via Turco 79, impianto ACIP Eni A Catanzaro, nel centro storico, in via Turco 79, impianto ACIP Eni Allora, dal centro storico, in via Turco 79, impianto ACIP Eni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.